C'è certi voto piasso, va a schiaffo piasso. Io tutte le volte. Però il tenereco Pettinella. E lui che ti ha mollato sta roba? Registri contabili della boutique di Gisto. Dice che non dobbiamo tralasciare nessuna pista. Che un buon poliziotto non può fermarsi all'apparense, bla bla bla. Ma ha fatto una capa così. Quello Pettinella è un altro. Poi ci fosse uno, dico uno, che ti desse una pacca, sai, di incoraggiamento, niente. Turni doppi, tripli, appostamenti, mai un permesso, niente. E tutto questo quando, dopo che il ruotolo ci ha fatto quel bel regalo delle fotografie. Pensi che siamo in pericolo? Dal primo giorno che abbiamo indossato questa. Però a me mi piace lo stesso. Non lo so, sarò un matto, ma non ci sono ramaglia o ruotolo che tenga. Io rifarei tutto, esattamente come ho fatto. E visto che c'è tutto questo entusiasmo, perché non mi dà una mano? Perché io tengo da fare. Devo ripartire e tornare al lavoro. Perché se no gli posso dare uno schiaffo vero, provo a dargli uno morale.